Piano piano, prendi le capiglie, ti spingi completamente indietro, inarchi completamente tutta quanta la schiena. Ok, ispira completamente. Poi, da questa posizione poi, porta le braccia dietro, in modo da poter girare poi il tronco in una direzione e un'altra. Ok. Abbandonati, come se collassassi, ok. Spingi con la testa sul tessuto, abbandona completamente ogni tua sensazione, lascia la pesantezza. Spingi con la testa sul tessuto. Grazie a tutti.